Buonasera, buonasera a tutti. Intanto ringrazio la nostra interprete Susanna Di Pietro che ancora oggi è con noi e ringrazio il professor Ranieri Guerra rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e componente anche del Comitato d'Ecchio Scientifico a supporto del Ministro della Salute. Partiamo dai dati di oggi. Il totale delle persone attualmente positive è di 95.262 con un incremento di 1.195 pazienti positivi in più rispetto a ieri. Di questi 3.693 sono in terapia intensiva. Oggi si confermano come ieri la riduzione dei pazienti in terapia intensiva, meno 99 rispetto a ieri, così come il numero delle persone ricoverate con sintomi diminuisce di 233. Il valore complessivo è di 28.485. Per quanto riguarda la maggior parte dei pazienti positivi, 63.084, il 66% del totale sono a casa in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi di lievi. Per quanto riguarda il numero dei deceduti, questa sera il numero dei deceduti è 552. Il totale dei guariti sale a 26.491 e oggi abbiamo un nuovo record di guariti 2.099 in più rispetto al dato di ieri. Un altro dato importante che si può dare in modo sintetico è il numero dei guariti negli ultimi dieci giorni. Abbiamo registrato un numero di guariti pari al 50% dei guariti registrati dall'inizio dell'epidemia. Come avrete notato ieri durante la conferenza stampa ho aggiunto alla comunicazione del dato sull'incremento dei positivi anche l'incremento dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente. È un numero che è sempre stato disponibile ed è già disponibile nella tabella pubblicata quotidianamente sul nostro e su altri siti istituzionali e già rilanciato e analizzato da molte testate giornalistiche. In questa fase dell'emergenza che vede l'alleggerimento della pressione delle strutture ospedaliere diventa un altro dato importante che può aiutarci a non perdere di vista l'entità dell'emergenza in corso. Oggi il numero dei nuovi contagi è pari a 3.836 rispetto a ieri che porta il totale delle persone contagiate a 139.422, comprensivi dunque delle persone attualmente positive, di quelle decedute e delle persone guarite. Questo ci impone di dire che dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia e mettere in pratica tutti quei comportamenti che sono consigliati dagli esperti che vediamo anche qui nella nostra grafica per evitare la diffusione del virus. Per quanto riguarda le risorse raccolte sul nostro conto corrente della protezione civile abbiamo raccolto oltre 113 milioni e 557 mila euro cifra tonda e le somme che abbiamo spese per l'acquisto di ventilatori, dispositivi di protezione individuale, è di circa 25 milioni di euro. Oggi ne abbiamo spesi 5 milioni e mezzo di euro rispetto a ieri in più. Le forze in campo, il numero che voglio segnalare è sempre quello del numero dei volontari, un numero cospicuo, oltre 15 mila volontari che si aggiungono ai vigili del fuoco, alle forze armate, alle forze di polizia, al personale sanitario, al personale delle regioni. Voglio anche ricordare che continua l'azione di rafforzamento delle strutture sanitari, presidi sanitari territoriali. Oggi sono arrivati due team di medici dalla Romania e dalla Norvegia ed è arrivato anche un carico di disinfettante dall'Austria grazie all'attivazione del meccanismo europeo di protezione civile. I dottori operanno nelle regioni più colpite dall'emergenza e voglio anche ricordare che domani partirà il terzo contingente dei medici della task force del Dipartimento della protezione civile. Partiranno 84 medici, sempre per le regioni che sono maggiormente colpite dal virus. In totale i medici che saranno partiti entro domani saranno 180, a cui si aggiungono anche 116 medici e sanitari internazionali che operano nelle regioni maggiormente colpite. Io mi fermerei qui. Non so se il professor Ranieri Guerra vuole fare un intervento oppure riserviamo direttamente le domande. Credo che andiamo direttamente alle domande allora. Grazie. Buongiorno. Giuliano Bormioli, agenzia Nova per il professor Guerra. In questi giorni si parla molto di fase 2. Oggi Confindustria ha lanciato un appello sulla necessità di riaprire le fabbriche a nord. Ma si parla anche molto di screening di massa della popolazione. Ora io vorrei capire, per il comitato tecnico scientifico è necessario che per riaprire le fabbriche e far tornare gradualmente la popolazione alla circolazione è necessario effettuare questi screening di massa per evitare nuovi focolai? Mi spiego. La fase 2 può partire anche senza aver effettuato un numero maggiore di test e quindi aver capito più o meno qual è il numero reale dei positivi in Italia? Grazie. Grazie per la domanda. Credo che sia un'ottima domanda. Il problema dello screening di massa non è posto però bene perché noi non stiamo parlando di uno screening di massa bensì di una testa campione per riuscire a capire quali siano effettivamente quale sia stata la distribuzione sia la distribuzione del contagio comprendendo anche gli asintomatici e tutti coloro che non sono stati sottoposti ad una diagnosi precisa. Questo ci permette di comprendere delle variabili all'interno della costruzione epidemica che non conosciamo e che sono fondamentali anche per dirci esattamente qual è il tasso di letalità della patologia da virus e per comprendere bene quale sia stata la distribuzione per classi di età ma anche per attività lavorative quindi con un occhio anche la restituzione alla riapertura al lavoro. Per quanto riguarda la riapertura credo che i passi preliminari che siano da compiere siano parecchi. Quindi avendo visto l'andamento della curva epidemica anche oggi non siamo in diminuzione netta. Siamo ripeto ancora una volta in rallentamento della velocità di trasmissione ma siamo di fronte ad un plateau. Questo plateau si abbassa progressivamente in maniera assai lenta. Questo significa che c'è un serbatoio di positivi asintomatici ripeto ma che continua a garantire la circolazione del virus. Quindi aprire o pensare di aprire in queste condizioni senza una conoscenza precisa di quale sia stata e di quale possa essere l'evoluzione del virus è abbastanza difficile prevederlo. Le due cose possono andare sicuramente in parallelo. Nel senso che si può predisporre una valutazione del rischio di riapertura per classe di lavoro, per tipologia geografica, per classe di età eccetera. Sempre con un occhio tuttavia alla diminuzione marcata di questa curva di cui parlavo, cosa che ancora non c'è, sempre tenendo presente il fatto che abbiamo comunque una categoria di persone che per età e per esistenti condizioni morbose è particolarmente vulnerabile. Io non credo che il Governo italiano voglia procedere ad un'apertura senza tenere in considerazione questa rischiosità che al momento è ancora molto alta. Buonasera, sono Cecconi del Tg3. Lei ha parlato appunto adesso ancora di una circolazione del virus che esiste in Italia. Oggi però sono stati fatti anche moltissimi tamponi, moltissimi tamponi in più anche rispetto a ieri, se ho calcolato bene, sui 51 mila. Appunto per questo le chiedo. L'OMS all'inizio in qualche modo non caldeggiò questo grande uso dei tamponi, anzi mise dei limiti molto stretti. Cioè bisognava essere sintomatici e avere un link epidemiologico. Con il senno di poi vi rimproverate di aver dato questa direttiva all'inizio, parlo di fine febbraio e primi di marzo. E' chiaro che con il senno di poi insomma le cose si fanno meglio. Però credete che sia stato un errore quello dell'OMS e quindi anche poi del Governo italiano accaduta? Guardi, a costo di sembrare ripetitivo non credo proprio. Non è una questione di errori fatti o di senno di poi. La questione riguarda la fotografia dell'andamento epidemico. In una situazione epidemica di un certo tipo si raccomanda un certo tipo di procedura. Altrimenti non ci riusciamo più a capire. La questione dei tamponi per quanto riguarda l'indicazione cogente, mettiamola così, rimane sempre la stessa. Per quanto riguarda l'utilizzo di tamponi a tappeto, le ricordo una cosa. La strategia di contenimento su un focolaio limitato e circoscritto nello spazio e nella popolazione interessata dà un'indicazione di tamponamento a tappeto perché bisogna sapere esattamente come si svolge la situazione. Una volta predisposto l'isolamento di quella zona geografica. E ripeto, con una popolazione limitata che possa permetterlo e che possa permetterlo in tempi molto brevi. Perché stiamo parlando di una reazione e di una capacità di contenimento che deve essere dettata da una conoscenza dettagliata di quanto accade. Con un'epidemia, chiamiamola matura, mi dispiace di usare questa terminologia ma è quella che si usa. Con un'epidemia matura in cui la trasmissione è altamente sostenuta ed è a livello comunitario come quella che si è verificata in seguito, le procedure cambiano drasticamente. Stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando, le ripeto, anche della possibilità di classificare come casi altamente sospetti coloro che clinicamente si manifestano in una certa maniera. Quindi a prescindere anche dall'utilizzazione del tampone diagnostico per la diagnosi di presunzione è fortemente clinica. Questo è stato fatto in Cina, questo è stato ripetuto anche nelle zone ad altissimo impatto in questo Paese. E credo che sia la procedura corretta. Lei non deve aspettare l'esecuzione di un tampone che peraltro è difficile da procurare qualche volta, difficile da eseguire, difficile da eseguire nel senso che ci vuole del tempo per avere un risultato. Lei non aspetta certamente di avere un risultato a 24, 48, 72 ore come può accadere in certi momenti. Lei deve agire immediatamente. E la diagnosi, ripeto, in una situazione di epidemia matura, ad alto sostenimento di trasmissione comunitaria è anche clinica. Quindi credo che errori da questo punto di vista non ne siano stati fatti. Altro è il tema dell'indagine sierologica, cioè riuscire a capire con la valutazione anticorpale quale sia stata l'effettiva circolazione del virus. Lo ripeto ancora una volta, questo è un elemento di conoscenza, ex post, se volete, retrospettivo, che però è fondamentale. Perché ricordiamo ancora che la clinica ci dice che una vasta maggioranza della popolazione esposta non vira verso sintomatologia clinica. Quindi abbiamo sicuramente una trasmissione comunitaria che non compare rispetto ad una diagnosi che può essere fatta in laboratorio, ma che sicuramente esiste. Dobbiamo saperlo e questo è il motivo per cui si raccomanda anche questo tipo di approccio a completamento. Buonasera Lattanzi, Aska News. Volevo chiedere al Dottor Guerra se come OMS avete intenzione di imporre alla Cina la chiusura dei mercati di animali selvatici che sono stati all'origine di questa emergenza. E poi il Dottor Borrelli, volevo capire, ci troviamo appunto in un'emergenza mondiale, nazionale e di solito in altre emergenze nazionali, terremoti, caduta di ponti. La protezione civile è sempre stata presente, il capo della protezione civile è sempre andato sul posto a verificare. Volevo capire come mai in questa occasione lei è rimasta a Roma. Solo questo. Grazie. Parto io, poi lascio al Professore la sua risposta. No, io voglio ringraziare per la domanda, perché questo mi permette di spiegare anche che tipo di emergenza è questa. Questa è un'emergenza assolutamente straordinaria rispetto a tutte le altre emergenze che abbiamo vissute. Non c'è un luogo fisico nel quale c'è l'emergenza. C'è bisogno di un punto di coordinamento unico a livello nazionale. Non a caso sono più di due mesi che il Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile si riunisce in modo permanente. Perché da questo luogo si riesce a coordinare bene tutto il territorio nazionale, gli interventi, il concorso dello Stato alla gestione dell'emergenza. Questa è anche un'emergenza di tipo sanitario, un'emergenza nel quale il sistema di protezione civile supporta il sistema sanitario che ordinariamente è competente. Quindi la risposta è sono più utile da qui che andare sul territorio. Andare sul territorio per la verità avevo pianificato e domani andrò insieme con il Ministro Boccia a Milano, insieme col contingente di medici che partirà domani. Perché c'è anche una riunione alla quale intendo partecipare. Io vi sto dando una notizia perché poi domani non si dica che sono andato sul territorio perché mi è stata fatta la domanda oggi. Il mio ruolo è qui. Quando c'è bisogno sicuramente vado e andrò sul territorio nazionale. Prego, professore. Sì, grazie. Lei attribuisce all'organizzazione un potere cogente nei confronti delle autorità statali che l'organizzazione non ha. Non siamo né un governo mondiale, non siamo neppure un'agenzia che prende le redini del gioco in una situazione come questa, tutt'altro. Siamo di fronte a stati sovrani che hanno una loro procedura e una loro autorità e una loro autorevolezza anche rispetto a quello che viene fatto all'interno del loro confine. Quel che è certo è che la raccomandazione è costante ed è sempre di identificare rischio, genesi del contagio, genesi della mutazione dei virus che fanno il cosiddetto salto di specie. Quindi su questo non ci sono dubbi. Ricorderete anche che l'epidemia di Ebola, le due ultime epidemie di Ebola, sono scaturite praticamente dallo stesso tipo di situazione. Quindi un'alimentazione a base di selvagini e animali di altro tipo. In questo caso la situazione è ancora diversa. Richiama alla memoria quella dell'influenza aviaria dove ci fu la convivenza e la vicinanza fisica con Pogli e con altri avicoli. Io penso che la Cina abbia preso coscienza di questo fatto e ho l'informazione che il governo sta predisponendo una serie di regolamenti e di rigore assoluto in questo senso. Sa, è anche una questione di comprendere esattamente la genesi dell'esplosione, dell'esplosione epidemica. Al di là di tutto ciò, una cautela nei confronti del rapporto di vicinanza tra uomo, persona e animale è sicuramente raccomandabile. Per quanto riguarda soprattutto volatili e certi mammiferi. Perché non ci dimentichiamo che le ultime grandi epidemie sono di fatto zonosi. Quindi sono effettivamente il passaggio di un agente patogeno dall'animale alla persona. Quindi sicuramente c'è una raccomandazione forte in questo senso. Ma da qui a passare all'autorità di chiudere un mercato, di chiudere un'attività commerciale, ce ne passa molto. Questo sta molto nell'autorità nazionale. Paola Motta, Sky TG24. Oggi, oltre a fare la giornalista, vorrei fare l'italiana. I dati iniziano ad essere più positivi, ma non voglio parlare di picco, di plateau e di una curva che il dottor Guerra ha detto in maniera molto esplicita. Manca ancora di una diminuzione marcata. Così come noi italiani siamo capaci di metterci in fila quando abbiamo paura, tanto siamo veloci a rompere le righe quando non abbiamo più paura. Da tutta Italia c'è la percezione che ci siano tante e troppe persone in strada. Noi giornalisti, venendo qui, lo abbiamo potuto vedere di persona. È necessario dare nuove disposizioni precise agli italiani? Non è più sufficiente dire state a casa. Ritenete che sia necessario? Quali sono le disposizioni da dare? E soprattutto, oggi l'organizzazione che lei rappresenta, adottor Guerra, ha lanciato in maniera molto evidente l'allarme che questa non sia l'ora di allentare le restrizioni. Ma il nostro governo vuole comunicarci per tempo che cosa gli italiani devono fare dopo il 13 aprile? Per quanto riguarda le decisioni del governo italiano, per venire all'ultima parte della sua domanda, sinceramente bisognerebbe chiedere al governo italiano. Però io non credo che il governo italiano intenda proporre alcun tipo di azione che non sia dettata dalla massima prudenza e dalla considerazione di quello che è il dato oggettivo ad oggi. L'organizzazione che rappresento ne ha fatto un punto cruciale. Siamo in un momento in cui si comincia a vedere la luce. In alcune zone del pianeta, in altre zone la luce non c'è ancora. E sono zone che ci sono abbastanza vicine e che possono in qualsiasi momento interscambiare contagio così come è stato nel recente passato. Quindi il livello di allarme è tuttora massimo. Il fatto e la considerazione che le misure di contenimento e le misure di isolamento adottate finora abbiano avuto un riscontro preciso, perché di questo stiamo parlando. Quello che vediamo oggi è il risultato dei provvedimenti presi due settimane, tre settimane fa. Quindi siamo confortati da una valutazione di efficacia che è sicuramente dimostrabile. Su questa base è ovvio che continuare con queste misure ci può portare all'abbattimento della curva, perché è ovvio appunto che la circolazione del virus in un certo modo è stata rallentata. Il famoso indice di riproducibilità è stato ampiamente valutato dai colleghi dell'Istituto Superiore. Sappiamo che siamo in un momento in cui sta diminuendo, ma in cui è ancora molto vulnerabile e può risalire. In qualsiasi momento ci possa essere una riaccensione di focolai epidemici anche di piccola entità. Il Paese è allungato, quindi abbiamo avuto un'esposizione al virus nelle regioni del nord. Che abbiamo avuto la stessa esposizione al virus nelle regioni del centro-sud è da dimostrare, ma probabilmente sta avvenendo adesso. Quindi rilasciare provvedimenti del genere senza una valutazione, senza una conoscenza precisa di quale sia la circolazione, credo che sia assolutamente deleterio e potrebbe vanificare tutti i sacrifici e tutte le misure prese finora. Diciamo che siamo ad un passo dal vedere una prospettiva di vittoria. Questo non significa che abbiamo vinto, assolutamente. È il contrario, è il momento di serrare le fila. Perché? Perché possiamo arrivarci. Sappiamo che queste misure hanno avuto un'efficacia. Quindi continuare con le stesse misure sappiamo che avrà un'efficacia sempre maggiore. Io credo che al di là di tutto sia anche da considerare il quadro globale, tuttavia. Siamo in una società allargata e estremamente mobile. La mobilità che lei riscontrava nella gente qui intorno è chiara, è evidente e va in qualche modo combattuta. Io penso che vada combattuta con le armi della consapevolezza e della comunicazione efficace e continua, in modo tale che la gente si renda conto che ha una responsabilità. Non può delegare questa responsabilità esclusivamente all'autorità pubblica, statale, regionale o quello che è. Ha una responsabilità individuale che è profondamente etica. Quindi comprendere questa eticità dello stare in casa e del rimanere isolati, penso che sia fondamentale per continuare. No, ha risposto e mi associo alla risposta del Professore. Buonasera Angela Caponnetto, Regnus24. In queste ore si ripropone il problema in migrazione. C'è una nave umanitaria con 150 persone a bordo che probabilmente chiederà un porto di sbarco. Nel frattempo è stato firmato un decreto, a quanto pare, che chiuderebbe l'Italia in quanto porto non sicuro. Dall'altra parte sbarcano però comunque in via autonoma, in autonomia. Sono sbarcate a Lampedusa più di 100 persone. C'è un protocollo che si può attivare anche a livello internazionale, a livello europeo, per poter risolvere un problema che non risolveremo chiaramente nei prossimi giorni e che potrebbe riproporsi soprattutto con la bella stagione. È una domanda che anche a Lampedusa, per esempio, si stanno chiedendo. Ci sono i cittadini lampedusani che si chiedono cosa succede adesso che sono sbarcate 100 persone e sono state tenute per diverse ore sul molo in attesa e poi forse trasferite in Sicilia. Insomma, c'è un protocollo per quanto riguarda l'immigrazione? Grazie. Sì, allora io ho già risposto qualche tempo fa su questo tema, dicendo che esistono tutta una serie di procedure che sono state attivate anche per quanto riguarda i migranti. L'evoluzione di queste ultime ore è proprio la firma di questo decreto che individua i nostri porti come porti non sicuri perché nel nostro Paese, come sapete, abbiamo in atto una epidemia, un'epidemia che vede profondamente coinvolti, pesantemente coinvolte, le nostre strutture sanitarie, le nostre strutture logistiche, le nostre strutture di sicurezza. Quindi il decreto prevede la dichiarazione di porto non sicuro per i nostri porti, ma ovviamente a livello internazionale si sta operando e questo è un compito dei ministri competenti per individuare delle soluzioni e sono anche convinto che a livello tecnico noi sapremo dare delle risposte in caso di esigenze e di necessità. Ultima domanda. Luca Laviola dell'Agenzia Anza, al dottor Guerra vorrei chiedere se in queste settimane, in questi mesi vi siete resi conto che la Cina ha comunicato tardi l'insorgere dell'epidemia sul suo territorio e ci sono stati ritardi in questo senso. In queste settimane abbiamo visto rapporti di intelligence, studi, inchieste giornalistiche a riguardo e se questo nel caso ha prodotto un danno a tutto il mondo. E poi le chiedo se ci può anticipare qualcosa su quelle che saranno le linee guida dell'OMS per la fase 2 di cui oggi ha parlato il Direttore Generale. Guardi, la questione della Cina, come sapete, è inutile nascondersi dietro un dito. E' il tema del giorno perché il Presidente Trump ha preso una posizione che potrebbe avere anche un impatto, io credo più mediatico che non sostanziale, sui finanziamenti degli Stati membri all'organizzazione. Sinceramente non credo che l'Agenzia abbia niente da riproverarsi. L'individuazione di un eccesso di patologie è stata fatta a tempo debito, l'interazione con l'autorità Paese è stata fatta ugualmente a tempo debito. Le ripeto quello che ho detto poc'anzi, voi pensate che l'organizzazione abbia un ruolo sovranazionale cogente, non è così. L'organizzazione lavora in contatto strettissimo con gli Stati membri e gli Stati membri sono quelli che alimentano la fonte informativa, oltre alle terze e le quarte parti che comunque vengono ritenute attendibili, inclusa società civile, professionisti ed altro. Quindi è stata tempestiva la comunicazione dell'epidemia da parte della Cina? Non sto dicendo che sia stata tempestiva, sto dicendo che quello che accade durante un'epidemia di questo genere è la segnalazione di casistica che viene accumulata. Dopodiché parte un sospetto e questo sospetto fa parte di attività di sorveglianza attiva che la Cina, come molti altri Paesi del mondo, conduce. Anche l'Italia conduce sorveglianza attiva e quindi è in grado di identificare eccessi di patologia che data la stagione, data la tipologia clinica, danno dei sospetti di una, chiamiamola infiltrazione epidemica, ecco, potenziale epidemico. Quindi su questa base vengono attivate le segnalazioni. Che poi ci siano ritardi o non immediatezza nella risposta, dovute anche a quello che l'Agenzia predica da sempre, cioè la capacità di prepararsi, quindi avere un piano di contingenza tale per cui nel momento in cui si verifica l'effettivo rischio di una fiammata epidemica si possa attivare questo piano e tutti sanno immediatamente che cosa fare e come predisporre la risposta. Questo mi sembra di capire da come sta andando in tutto il mondo che francamente è un elemento, è una dimensione da migliorare in maniera molto consistente. Quindi non le rispondo su ritardi sì, su ritardi no. Le dico semplicemente che c'è una fisiologia nel montaggio della risposta che purtroppo non è mai immediata. Ed è proprio per questo che è necessario avere il piano di contingenza che viene attivato ben prima che scatti la macchina che comunque burocraticamente, amministrativamente e tecnicamente sia in grado di rispondere. Non so se ho reso l'idea. Il secondo punto che lei faceva era... Le linee guida per la fase 2. Il dibattito è acceso. Ci sono state due convocazioni del gruppo di consulenza tecnico-scientifico che l'organizzazione ha montato un paio di mesi fa proprio per questo scopo. Ci sono una serie di linee che si stanno dibattendo in modo tale di fornire il supporto agli Stati membri che prescriva quali sono i requisiti minimi da rispettare per poter cominciare a parlare di fase 2. Mi spiego meglio. La capacità del Paese di identificare con assoluta certezza entro le 24-36 ore casistica sospetta di poter diagnosticare e immediatamente avere una risposta. Sono criteri di popolazione, di indagini di popolazione, di presenza se vuole nel territorio che sono assolutamente pervasivi. Quindi in assenza di questa capacità la fase 2 è meglio che la discutiamo successivamente. È meglio che ci organizziamo sulla disponibilità di questi strumenti e di queste abilità se vuole in modo tale che possa essere garantito il minimo rischio nel momento in cui si comincia a pensare di riaprire. E soprattutto la riapertura per fasi. La raccomandazione sarà sicuramente in questo profilo, ovvero riaprire parzialmente oggi, quando sarà, non oggi oggi, quando ci saranno le condizioni minime e poi progressivamente ma a distanza di un paio di settimane procedere con riaperture successive in modo tale di poter contenere la possibile riaccensione della fiammata epidemica a causa della prima o della seconda o della terza riapertura in serie. Il caso italiano, secondo lei, farà testo anche per il resto del mondo visto che siamo avanti nella... Guardi, io ho invitato, ho invitato il mio collega, il direttore regionale dell'OMS per la Regione Europa, Copenaghen, sta invitando i vari stati membri a collaborare, a interagire con l'Italia proprio per capire che cosa l'Italia ha vissuto dato che l'Italia è due settimane, tre settimane nel futuro rispetto a tutti gli altri. Questo è un punto cruciale perché non si tratta di reinventare ogni volta la ruota, si tratta di seguire le lezioni anche dolorose che gli apripista devono in qualche modo subire e questo è quanto l'Italia purtroppo ha subito nel corso di questa epidemia. Le dico un'altra cosa, purtroppo questo non accade con grande frequenza o con la frequenza che vorremmo vedere perché ci sono stati che tuttora non hanno predisposto la chiusura drastica e draconiana dell'Italia e sono stati che vedono ancora crescere la propria curva in maniera esponenziale. Ne abbiamo anche di vicini. Ci sono problemi in un paio di cantoni della Svizzera come avrete visto dalla mappatura e dalle elaborazioni che il Governo federale svizzero sta facendo e così via. Se posso dire, una delle cose importanti di questa epidemia è la grande trasparenza con cui gli Stati membri hanno affrontato la problematica e la reportistica che viene, l'informazione che viene garantita alla popolazione. Non mi sembra che ci siano stati tentativi di nascondere niente e questo è un elemento ampiamente positivo. Al di là di ciò però, sarebbe opportuno che ciascuno imparasse dagli altri e cercasse di evitare gli errori che gli altri hanno commesso. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Buonasera.